Sono volontaria a AERC ormai da diversi anni, ho madre e zia che lavorano all'interno di AERC, quindi sono sempre stata un po' coinvolta in questo mondo. Penso che ciò che facciamo sia per una causa più che giusta ed è un qualcosa che dentro di me sento mio. Sono volontaria da tanti anni e mio padre mi ha trasmesso questo impegno, perché è sempre bello anche scambiare due chiacquere con le persone che si avvicinano alla piazza e aiutano la ricerca e danno il loro contributo. Essere volontaria AERC mi dà la possibilità comunque di dare il mio contributo, di essere utile e di condividere comunque la mia esperienza con le altre persone che a loro volta danno il loro contributo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.